Di nuovo in collegamento da Non Solo Anima TV, dal congresso Il Mistero dell'Esistenza Umana a Rimini, Belaria. Abbiamo il piacere e la fortuna di avere Giuliana Arbelais, laureata in chimica, esperta in rebirthing. Che cos'è il respiro e qual è la sua forza segreta che sembra abbiamo perso? Per me il respiro è il ponte che unisce l'invisibile alla materia ed è la capacità di portare quello che noi abbiamo l'intelletto al corpo, per cui quando noi facciamo, e penso tanti di noi hanno fatto dei processi di psicoterapie varie, arriviamo alla comprensione intellettuale del problema che abbiamo, ma non lo riusciamo a risolvere. So che ho un determinato comportamento e so che questo comportamento ce l'ho, perché quando ero piccolo mio padre mi picchiava, ma sono in la comprensione intellettuale, ma non l'ho integrato, non l'ho nel corpo. So che fumare fa male, ma continuo a farlo. Questo in realtà è perché il mio corpo non lo sa, io lo so con la mente. Allora, la proprietà del respiro è quella di portare, di unire la mente al cuore. La vita poi, il primo atto che facciamo quando veniamo al mondo è respirare, ed è l'ultimo quando lasciamo la terra. Quali sono i blocchi del respiro più comuni? Quali esperienze, in qualità particolare della nostra vita ci possono bloccare? Il primo grande blocco che noi abbiamo con il respiro è nel momento del taglio del cordone umbilicale. Quando noi veniamo al mondo non viene rispettato in nessun modo la placenta o un battito. Questo battito dura anche per due ore, perché noi continuiamo a essere alimentati dalla placenta. E nel momento in che questo viene tagliato senza rispettare il ritmo naturale, noi facciamo il primo blocco grande del respiro, perché prendiamo un'ispirazione che diventa molto dolorosa. Invece di essere un'ispirazione dolce, progressiva, è una respirazione violenta che brucia i nostri teneri polmoni. Per cui quando noi bruciamo i polmoni sentiamo dolore e pensiamo, facciamo anche il primo pensiero, che non è a livello intellettuale ma energetico, e pensiamo che la vita è difficile e accorciamo il respiro. Mano a mano che cresciamo, ogni trauma che noi viviamo, ogni volta che mia madre mi urla e mi manda in camera, io faccio, blocco il respiro. Noi blocchiamo il respiro per non sentire, blocchiamo l'emozione. Ma l'emozione è quello che mi dà il collegamento con il pensiero. Per cui noi abbiamo, creiamo una rottura, un cortocircuito tra il respiro e l'emozione. Respiriamo sempre di meno per sentire sempre di meno. Ma se noi non sentiamo, non sentiamo, è vero non sentiamo la paura, ma non sentiamo neanche l'amore e la gioia. Per cui viviamo bloccati. Come il modo di respirare può influenzare la propria vita sessuale? Il nostro modo di respirare blocca la nostra sessualità perché blocca i nostri chakra. Ma non blocca soltanto la nostra sessualità, blocca tutto il rapporto con la vita. Proprio per questo che vi dicevo prima, è il collegamento con le nostre emozioni. Quando io ho paura, quando mi do una martellata su un dito, che cosa faccio? Trattengo il respiro, faccio per non sentire. Quando siamo felici e emozionati, respiriamo. Allora, la respirazione, la sessualità, la sessualità che già è bloccata per una quantità di pensieri religiosi, culturali, sociali. Per cui è bloccata sui primi due chakra, è un piacere sostenuto solo ai primi due chakra per una quantità di pensieri. Teniamo conto che il pensiero diventa emozione. E se l'emozione è collegata al respiro, quando blocco il respiro blocco l'emozione, blocco il sentire, blocco la sessualità. Ma non solo la sessualità, blocco la mia vita. Blocco il mio rapporto con gli altri. Blocco la capacità di sentire, di esprimermi e di vivere. Il respiro è vita.